Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. Le anticipazioni esclusive di Terra Amara che vi svelerò oggi vi condurranno attraverso un insieme di emozioni straordinarie. Preparatevi a vivere episodi ricchi di colpi di scena mozzafiato che vi terranno con il fiato sospeso davanti al vostro schermo. Oggi vi porto le anticipazioni che andranno in onda dal 30 al 4 giugno. Ma prima di iniziare vi chiedo di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara. Iniziamo! La puntata di martedì 30 maggio vi trasporterà nel mondo affascinante delle Yaman e dei loro instancabili operai, tutti intenti nella frenetica ricerca del piccolo Adnan e della piccola Uzum. Sarà un episodio che si concentrerà su di loro, ma quando Fecheri e Ilmaz fanno eruzione nella villa Yaman per offrire il loro prezioso aiuto, le tensioni del passato riaffioriranno, scatenando conflitti inaspettati. Ma c'è di più. L'atmosfera si caricherà di un mistero avvongente intorno a Zuleia, catturata e trascinata nel bosco contro la sua volontà dal suo stesso marito. Il suo destino rimane avvolto nell'incertezza. Nessuno sa cosa le sia accaduto, un enigma che rende l'intera puntata ancora più affascinante. La rabbia di Demir è esplosa con violenza, alimentata da oscuri propositi che alla fine non sono stati compiuti, salvando la vita di Zuleia. Questo ha portato Unkar e gli altri a essere profondamente preoccupati. Nel frattempo, la dottoressa Mujgan, dopo un acceso litigio con Ilmaz, ha lasciato emergere tutta la sua gelosia, spingendola a compiere un gesso sconcertante, puntando ancora una volta al dito contro suo marito. Lui, ormai esausto, ha finalmente perso la pazienza e le ha rivolto parole di fuoco. Da quel momento Mujgan ha deciso di allontanarsi, preparando le sue valigie per andare via insieme a suo figlio Kerem, in un luogo lontano negli Stati Uniti. Nel frattempo, nella villa Yaman, tutti sono in ansiosa attesa di ricevere una richiesta di riscatto da parte dei rapitori dei due bambini. L'atmosfera è carica di tensione e incertezza, mentre ogni membro della famiglia si interroga sul destino dei piccoli e su com'è poter riaverli indietro. In un turbino di emozioni contrastanti si affrontano il timore, l'angoscia e la speranza delle tofine. Nell'episodio di mercoledì 31 maggio si svelano due eventi di grande importanza, uno dei quali porta a rassicurazione, mentre l'altro sconvolge profondamente. Per quanto riguarda il primo evento, Adnan e Uzum vengono finalmente ritrovati. I piccoli avevano trascorso la notte nelle baracche del villaggio, provocando un grande spavento a tutti coloro che temevano fossero stati rapiti. Ora, però, si può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il secondo evento riguarda Zuleia. Dopo il suo ritorno appare spossata e provata, avendo trascorso ore da sola nel bosco, perdendo persino i sensi. Demir, vedendola, reagisce in modo violento, cacciandola letteralmente dal cancello della villa. Yama non ha alcuna intenzione di accoglierla di nuovo in casa sua, né di permetterle di vedere i suoi bambini. Il comportamento di Demir è il risultato di tutto ciò che è accaduto in precedenza con il suo acerrimo rivale, Yilmaz. Questi eventi hanno un impatto profondo sulla storia e sulla dinamica familiare. Le emozioni si fanno più intense, mentre la tensione tra i personaggi si accresce. L'episodio di mercoledì offre un mix di rassicurazione e shock, lasciando lo spettatore con un senso di incertezza riguardo alle future evoluzioni della trama. Sarà interessante osservare come questi eventi influeranno il destino dei personaggi e quali conseguenze avranno sulle loro relazioni intricate e complesse. Nel coinvolgente episodio del primo giugno saremo testimoni di eventi ancora più sconvolgenti e scioccanti. Dopo essere stata brutalmente cacciata dalla villa e privata dei suoi preziosi figli, Zuleia si trova in una situazione disperata, senza alcuna via di fuga apparente. L'oscurità sembra avvolgerla completamente. Tuttavia, un flebilo raggio di speranza fa capolino nel suo tortuoso cammino quando trova sostegno in Sermin, che le offre una mano amica. Ma Ilmaz, il crudele antagonista, emana un ordine implacabile. Nessuno deve aiutare o confortare Zuleia, a prescindere dalle circostanze. Così, la giovane donna si ritrova abbandonata e sola, a volte in un'aura di disperazione che la logora incessata al mente. Tuttavia, in un fugace istanto di tregua, nella sua tormentata esistenza, Zuleia trova un momento di conforto grazie a Duncar, che segretamente le offre l'opportunità di rivedere i suoi bambini. Ma questo momento di gioia è destinato a svanire in un attimo, perché Demir, ancora più furioso di prima, la rincorre senza pietà e la sbatte nuovamente fuori dalla villa. Ormai provata e travolta dal dolore, Zuleia raggiunge il punto di contemplare un gesto irreversibile, da cui non potrà mai portare indietro. In un istante drammatico, di fronte ai tutti, si copre di benzina in mezzo alla piazza, preparandosi a compiere l'impensabile. Ma proprio quando tutto sembra perduto, come un vero miracolo, Fecheli si fa strada tra la folla e, senza esitazione, la ferma, portandolo con sé verso la sua dimora. L'emozione raggiunge livelli inauditi in questa puntata, carica di tensione e colpi di scena. Non perdete l'occasione di seguire il destino tormentato di Zuleia e scoprire cosa riserva al futuro per questa giovane donna. Resterete incollati allo schermo, sospesi tra la speranza e la disperazione, mentre la storia si ripana svelando gli intricati fili del suo destino. La puntata del 2 giugno non sarà trasmessa a causa della Festa della Repubblica, ma la serie riprenderà sabato 3 con un episodio mozzafiato. L'emozione raggiunge vette ancora più alte, trascinandoci in un turbine di suspense e coinvolgimento. Le vite dei nostri protagonisti sono sconvolte da scelte che potrebbero cambiare irreparabilmente il loro destino. Mosvian ha preso una decisione che sconvolge tutti, lasciare il suo paese e partire per l'America con il suo prezioso figlio, Kerem. Tuttavia, Ilmaz è disposto a tutto pur di non essere separato dal suo amato figlio. Una battaglia senza esclusione di colpi si scatena tra i due, mettendo in luce l'amore incondizionato e la determinazione di Ilmaz nel tenere vicino a sé il proprio figlio. Nel frattempo, Atip, l'uomo, viene a conoscenza della riapertura del caso dell'omicidio di Ciengavier. Questa notizia scuote il mondo e spinge Atip ad agire con una determinazione cupa e fedda. Abia ha un piano segreto che coinvolge un insieme di cavalli, ma le sue intenzioni rimangono avvolte nell'ombra. Tuttavia, si percepisce che qualcosa di grande e pericoloso si sta preparando. Alcuni testimoni della tragica vicina di Zuleia non possono fare a meno di correre da Unkar per riferire la terribile notizia di quello che la ragazza ha fatto. Si preparano a condividere i dettagli che potrebbero addirittura cambiare il corso degli eventi. Tuttavia, quando Demir viene a conoscenza di ciò che è accaduto e scopre che Fecheli ha salvato Zuleia, portandola a casa sua per darle conforto, decide di intraprendere una missione rischiosa per riportare la ragazza a casa sua. Nel frattempo, Ilmaz, coraggioso e determinato, si imbarca in un viaggio verso l'America per raggiungere sua moglie e impedirle di portare via il loro amato Kerem. Tuttavia, il destino inaspettato si intromette sulla sua strada dopo aver elaborato un piano astuto con l'aiuto dei suoi compagni. Ilmaz e i suoi compagni vengono arrestati per una vendita di provenienza illecita. Così, le speranze di unirsi con la sua famiglia sembrano svanire nel vuoto. L'adrenalina continua a pulsare nelle vene degli spettatori, mentre le vite dei nostri amati personaggi sono sconvolte. Il destino li tiene in bilico e solo il tempo rivelerà quale sarà il cammino e come si evolverà nei loro destini intrecciati. Non perdete i prossimi avvincenti episodi che promettono di regalare ancora più colpi di scena ed emozioni. Il video termina qua. Se è stato il tuo gradimento, lasciami un bel mi piace ed iscriviti al canale. per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!